Siamo in santo spirito, come potete vedere, un graffito durante la notte, non è una cosa buona, perché facciamo queste cose? Tra l'altro abbiamo Camilla del Comitato Residenza di Santo Spirito, non è molto grande, però da noia. Buongiorno, siamo veramente dispiaciuti, i padri agostiniani, questa basilica, secoli, non rimarrà niente, ogni giorno c'è uno spregio. Questo non va bene. Non esiste evidentemente il rispetto per il sacro, non esiste il rispetto per un monumento, non esiste il rispetto per un'opera d'arte. A questo punto il Comitato Residenza di Santo Spirito desidera in tutti i modi che il Comune, di concerto con la soprintendenza, progettino e installino una cancellata a protezione di questo monumento. Devono esserci delle regole, ci saranno delle porte scorrevoli che permetteranno durante le ore di apertura della basilica di poter frequentare il sagrato, ma con regole precise, senza bere, senza mangiare, senza bivaccare, senza usare sostanze e senza naturalmente sfregiare, perché qui il monumento lo si può guardare, è una lavagna. Qui durante l'aperitivo i ragazzi e gli uomini adulti evidentemente si divertono, ci sono tutti i colori, blu, celeste, nero, addirittura con i coltellini fanno dei disegni di leoni, stanno togliendo tutto l'intonaco. Questo è veramente inaccettabile che passivamente la comunità agostiniana debba subire tutto questo, non è accettabile che la residenza subisca tutto questo, non è accettabile che il mondo intero che ha questo capolavoro cosa trasmetterà? Però se posso dire una cancellata è brutta, per noi che abbiamo vissuto questa piazza anche in passato, vederla racchiusa all'interno di una cancellata è un po' bruttina, è come se fosse una sconfitta, perché si accetta il fatto che non siamo riusciti ad educare le nuove generazioni a rispettare la Chiesa. Io penso che una sconfitta sia accettare che venga rovinato questo tutti i giorni, trovo che invece una vittoria è preservare questa basilica dalla rovina, la cancellata è semplicemente strumentale, partendo dalla strada, quindi l'altezza di un uomo, un metro e ottanta, per far sì che a determinate ore, dalle sei di pomeriggio in poi, venga chiuso, in modo che la basilica è sopraelevata ma non poi così tanto, quindi la cancellata di fatto alla fine arriva, è come se arrivasse pari all'altezza del sagrato, partendo da terra, quindi francamente non mi sembra così, bilanciando i pro e i contro assolutamente è un vantaggio per il monumento. D'altronde a Roma, a Firenze, altrove, è stata l'unica possibilità per poter salvaguardare i monumenti, le Lopoldine, penso alla Chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma, penso alla Chiesa Agostiniana a Roma, ormai la Chiesa di Santa Felice, ma le Chiese, i monumenti hanno bisogno oggi, non è più tempo, evidentemente i costumi sono molto cambiati, c'è stata un'involuzione e laddove non esiste più il rispetto, io penso che non sia una sconfitta per il comune, qui si travaliga qualsiasi credo politico, a mio parere è una questione assolutamente di buonsenso, non è una sconfitta pensare che ci sia una struttura che eviti l'accoglienza, l'accoglienza c'è ma a determinate ore e a determinate regole, dopodiché siccome non siamo in grado di poter salvaguardare con militari per 24 ore al giorno, evidentemente perché l'abbiamo notato, è l'unica soluzione.